Si dice che nel 1842 in un teatro come questo, in una soffitta come questa, era il teatro alla scala, i macchinisti si fermarono, si affermarono a ascoltare, ascoltare è un'opera che si stava provando, l'opera era Nabucco di Giuseppe Verdi, è un'opera che contiene per molti versi molti elementi del risorgimento, intanto perché veniva rappresentata nel periodo di preparazione dei sentimenti, delle idee, delle idee politiche, delle concezioni del futuro dell'Italia che si stava elaborando, poi perché naturalmente tutti la ricordiamo per Vapensiero che alcuni anni dopo è diventata l'occasione per gridare viva Verdi, cioè Vittorio Emanuele, re d'Italia, perché lo stesso Verdi è diventato senatore del Regno, perché intorno a quella Milano che di lì a poco avrebbe avuto le cinque giornate, stavano agitandosi diverse idee del futuro dell'Italia, un'idea federalista, un'idea di una monarchia guidata dal re Carlo Alberto che infatti avremmo poi visto dall'inizio alla prima guerra di indipendenza e quindi si scontrano anche opinioni diverse. Io ho pensato che forse quel momento di nascita di una storia fosse il momento più bello da raccontare per raccontare il Risorgimento, quando il Risorgimento era ancora una speranza e non per certi versi come è stato in seguito per alcuni anche una delusione, penso soprattutto a quelli che per esempio erano repubblicani come Garibaldi o Mazzini. L'opera di Luigi Dallapiccola che segue la mia non è esattamente ambientata nel Risorgimento né tantomeno dopo il Risorgimento, però è stata scritta in un momento molto importante della storia d'Italia ed è comunemente attribuito un legame con la Resistenza. La Resistenza è stato un momento per certi versi vicino al Risorgimento perché ha unito gli italiani in un unico scopo e ha portato anche in un certo senso alla realizzazione dei sogni di alcuni, come per esempio il sogno di un'Italia repubblicana. Nell'opera di Dallapiccola la parola fratello ricorre più volte e forse anche questa parola fratello che ricorre frequentemente come ricorre nella seconda strofa dell'inno di Mameli ha un suo senso per ricordare anche se non rievocando una precisa realtà storica il Risorgimento.